Preoccupazione e sospetti per focolai di incendio che con una cadenza ormai allarmante si registrano in località acquapendente a Corbara. A lanciare l'SOS alcuni residenti della zona che hanno filmato i roghi che al mattino presto si propagano nella vallata. Immagini pubblicate sui social ed inviate anche alla nostra redazione perché si diavoce all'indignazione per quanto si sta verificando nel piccolo centro dell'agro, porta della costiera amalfitana. La zona dove si verificano i roghi corrisponderebbe ad un'area privata non recintata e che perciò diventa terra di nessuno e dove chiunque può recarsi a sversare di tutto. A rimarcarlo è anche il sindaco Pietro Pentangelo da noi interpellato che ha annunciato un'immediatazione del comune in quel luogo che dovrà necessariamente essere messo in sicurezza per garantire la pubblica incolumità dei cittadini. L'amministrazione comunale avrebbe già predisposto un massiccio intervento di bonifica ma anche un piano di vigilanza e avvistamento dell'area che dovrà essere controllata perché non si possano più verificare episodi simili. Con molta probabilità ad entrare in combustione sono foglie secche o erba o materiale di bosco e giardini che per legge peraltro non possono essere date alle fiamme nel periodo 1 maggio 30 settembre e regolamentato invece negli altri periodi. Ma la preoccupazione attiene ad altro ovvero se a prendere fuoco sono invece rifiuti urbani o addirittura rifiuti pericolosi. Il dubbio e la preoccupazione tra i cittadini cresce. Alle autorità il compito di far luce sulla vicenda.